Con il regista, fatto salvo che ne ho avuto uno molto bravo che poi adesso non c'è più e poi quelli che si sono avvicendati, il primo è stato accompagnato verso altri liti perché mi ha detto allora mi devi dire questo Che dici? Ciao, è stato un piacere Un ospite ed un gin tonic Questa è Gin Toneria Immergiamoci Buonasera amici e bentornati a un nuovo episodio di Gin Toneria Podcast Oggi un ospite d'eccezione arriva dall'Umbria Giorgio Barchiesi, meglio noto del grande pubblico Molto piacere ragazzi, molto molto piacere Giorgione, l'avete riconosciuto perché? Quello alto e ben distribuito Per forza di cosa, intanto sarei già stato inquadrato in quel momento quindi pochi dubbi sulla tua presenza, grazie per essere qui Abbiamo fatto un brindisi bellissimo Facciamolo di nuovo, devi dire questo Perché prima abbiamo detto non decada Adesso facciamo perché l'amicizia tenga Un bicchiere vada e un bicchiere venga Bene, mi piace questo al contrario Molto molto bene Questo lo regaliamo al nostro pubblico in anteprima perché è giusto che prendano anche quello che è privato di questo episodio Come privato è anche questo luogo Giorgio, ti sei reso conto della scarsa professionalità di questo set che è nato nella mia stanza a Milano? Posso dirti che è un gran casino bellissimo? È un cuacervo di robe Ma perché no? No, no, ma a me piace molto in realtà Io sono 67 anni, tu ce l'hai 24? Corretto Ecco Cioè i miei 24 anni ero sicuramente anche abbastanza incasinati Poi tu per normale sei nel centro di Milano Io stavo sempre in campagna quindi saranno sempre dimensioni diverse Ma io voglio andare più o meno a pescare lì perché quest'anno in realtà nell'intenzione di un podcast che inizia ad avere un po' di storico sono altro perché le polaroid lì dietro aumentano mi sono chiesto cosa mi interessasse di chi è di chi siede davanti a me di chi mi dedica un po' il suo tempo e sono ripartito dalla stanza da dove poi è nato questo spazio e quindi io voglio tornare nella tua stanza a Roma poi magari ci muoviamo anche a Perugia dove hai fatto gli studi che ragazzo era in stanza come luogo fisico ma anche metaforico riportami lì Diciamo che la mia era una famiglia borghese noi viviamo al centro di Roma eravamo anche agiati come si potrebbe dire oggi ma avevamo una educazione molto spartana mia madre era una pedagoga montessoriana per cui c'erano poche smancerie c'erano molte regole grande libertà individuale per dirti io a 15 anni con il cinquantino sono andato fino in Val Posteria mi sono girato Da Roma Mio fratello sparì per tre mesi con un corsaro 125 sempre da Morini non c'erano sempre più nulla arrivava una cartonina dal Marocco dal Marocco con la Modo Morini con la Morini vai dove vuoi punto quindi avevamo una libertà individuale poi c'erano delle regole la mia camera era divisa con mio fratello diciamo che aveva 18 mesi meno di me comunque andavamo molto d'accordo ci chiamavano la peste e colera perché eravamo delle due qual eri? io la peste bene perché eravamo purtroppo vivascetti paravamo sei figli i miei ti ripeto avevano grandi convivialità e con la convivialità io l'ho imparata a casa la mia camera era una camera che pur essendo grande i retti si chiudevano perché se no il casino che si combinava nelle camere per liberare spazio beh insomma per giocare per fare ma ci eravamo anche appropriati del seminterrato dove c'era la pista della scalezza con le macchinette c'era anche una volta un biliardo ma la terza volta che abbiamo rotto il tappetino basta perché chiuso il biliardo erano sordi che volavano così a gratis rimaneva per i grandi assolutamente che ragazzo eri che stimoli avevi cosa guardavi quali erano i riferimenti musicali artistici ti piaceva cazzeggiare con gli amici ti presenti che a casa mia noi avevamo tutto il materiale di Davy Zard Davy Zard era quello che ha portato Madonna ai tempi di quando io ero proprio ragazzo i miei fratelli più grandi erano già più preparati noi andavamo a vedere i Genesis i Tennis After e c'erano tutti questi questi concerti che arrivavano e noi io mi ricordo l'unica volta collaborato per questa cosa ci avevo avuto 16-17 anni stavo su questa colonna non c'era l'elettronica c'era questo faro la cuffia e c'era il regista che aveva fatto una sorta di battaglia navale sul palco ti faceva F4 yellow tu puntavi F4 e ti avevi giù filtro giallo tutto molto manuale però facevi parte di un gioco non so come dire venne adesso tu fossi troppo giorni ma c'era un certo Stomo Yamashta che era un percussionista famosissimo molto molto particolare e faceva proprio incantinare a me cioè noi avevamo questo contatto con la musica questo per tuo interesse personale o perché anche la famiglia in qualche modo aveva dei rapporti i miei mi erano più legati alla musica classica essendo più anziani ma erano molto menomani avevano veramente il palco all'opera noi siamo cresciuti anche da ragazzini andavamo a vedere le prove generali all'opera per cui ho ascoltato nelle varie fasi della mia vita tutta la musica quello che mi fa un po' impressione adesso è che è un po' piatta mi sembra tutto molto uguale mi sembra tutto molto simile a quello che è già uscito questo non lo voglio dire però diciamo che quello che ascolti non senti grandi vibrazioni non so come dirti forse non è anche un momento di evoluzione perché sono anziano lo dico è percepito è personale bravo grazie sei molto gentile è un ottimo modo per liberarti a qualsiasi honor ti voglio bene è un ottimo inizio di puntata mi sembra che il senso di convivare una famiglia comunque numerosa con sei figli era aperta la tavola se tu avvertivi potevi portare chi ti pareva a tavola si poteva essere anche in venti capito? amici di amici si portava con i miei c'era una grande anche confronto generazionale non c'era mai uno schermo acceso mia madre riputava la televisione lo strumento del demonio quindi a casa mia la televisione era mancata i miei amici dicono io vado a dormire dopo Carosello e che è Carosello? chi ne aveva mai visto Carosello? che era la pubblicità sulla Rai ma c'era c'era amicizia con i tuoi genitori in un modo chiaramente non può pertenere a quell'epoca mettendomi oggi vedere quello che io ero a 40 anni rispetto a come loro erano a 40 anni sicuramente il distacco generazionale era molto più vasto di quello che oggi c'è con i tuoi figli i rapporti sono diversi però non posso dire di non aver avuto dei buoni genitori perché comunque erano molto attenti proprio perché eravamo tanti forse avrei preferito forse uno scappellotto a quello sguardo per dirti che noi eravamo molto 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 composti alla fine l'educazione ci è stata data bene i miei amici ogni tanto spaccavano andavano tanto su di carattere ma andavano anche molto giù di carattere noi certi tipi di picchi non ce l'avevamo perché comunque dovevamo essere composti e forse qualche emozione in più ci sarebbe voluta però poi dopo me le sono riprese perché poi a 18 anni e mezzo me ne sono andato si è andato a Perugia a studiare a Perugia dove non avendo una lira perché non c'avevo una lira bucata per trovare una dimensione possibile sono andato a dormire praticamente in un casale mezzo di roccato a 25 km da Perugia perché tutto quello che era più vicino costava di più lì col desiderio di fare vetrinaia e poi non l'ho finita ma l'ho fatto comunque perché comunque c'è un'azienda agricola vicino a Roma con tante bestie e tutto quanto quindi io del pezzo di carta insieme non me ne fregava niente tieni presente io a 16 anni già lavoravo con un professore mio di zootecria che era un veterinario famoso a Roma che cominciva ad andare verso l'anzianità quindi non ci vedeva io tagliavo cocivo e guardavo e facevo già tutto la dimensione manuale c'è sempre stata molto una grande disinvoltura manuale questo perché in qualche modo nascere una famiglia numerosa ti impone di dover fare da subito noi dovevamo imparare a fare tutto cioè io so fare anche la calza so fare anche l'uncinetto per rammendare perché avevo i cinque maschi e una femmina quindi non c'era questo e poi i miei non c'era un papà e una mamma c'era un pappo e un mammo non so come dirti lavoravano tutte e due non c'era c'era grande rispetto non ho mai vissuto in un clima anche che ti devo dire sessofobico, omofobico, razzista c'era sempre una grande disponibilità a un confronto questa libertà questa apertura te la sei portata molto nel tempo guarda ti dico una frase che mi ricordo perfettamente che mia madre mi disse a 14 anni adesso io sono 67 Giorgio vai incontro alle cose con la curiosità e non con la diffidenza soprattutto nei confronti di diversità non mettere muri, barriere o filtri vai con l'emozione che ti dà quella cosa in quel momento non saranno più diversità se me lo ricordo adesso è stato un po' il mio light motive è un monito importante ci voglio tornare al corso della puntata perché la curiosità è una parola è difficile anche da definire è un'attitudine forse per certi versi la curiosità se non si è curioso la tua testa non lavora io credo che l'amore sia l'esperienza più alta che possiamo provare ma la curiosità muove il mondo anche la curiosità porta a andare oltre la morte il tempo, l'amore grandi forze che scuotono l'umanità mi dai una pennellata di super livello non so come diritti che è gradevole però io direi che io che sono un po' più materialista ti dico che la curiosità era che vedevo una cosa e volevo capire che cos'era subito spesso anche se c'erano degli amici barchiesi impara ad aspettare perché io invece quando parlavo con le persone già ho capito come uno lo dia andavo avanti e quindi era un po' mangiato tutto non so come dirti anche forse un po' troppo di cosa poi con l'età uno si alcune domande hanno una risposta interiore non necessariamente un espulso diciamo che l'interiorità non mi riguardava molto ero molto esteriore mi piaceva stare al centro dell'attenzione mi piaceva mi piacevo quando c'erano i periodi in cui tutti si scocciavano come i fiaschi ora lasciamo stare le cosiddette droghe leggeri di cui più che meno chiunque ne ha fatto uso quanto e meno per provarlo eccetera però l'idea che una sostanza stupefacente o l'alcol mi dessero la possibilità di essere qualcun altro rispetto a quello che ero io normalmente mi sembrava di essere un po' miso di perdere un po' di spessore capito invece mi sembra vissuto comunque come ero e non mi serviva piacevole anche le donne si grazie a Dio si buffo da parte mia ero splendido ero splendido come la musica era una leva beh io suonavo la chitarra e con quella si rivolchiava eravamo in due avevamo un repertorio differente quando suonava lui tutti avevi da fare e quando suonava lui si aveva da fare lui insomma era normale anche perché io ormai ho avuto rapporti dove c'era un legame perché mi sembrava da essere troppo giovane io penso che sto con mia moglie da 75 che si è spaziale da 81 abbiamo tre fini in comune viviamo insieme lavoriamo insieme però c'è stata una grande disinvoltura fra noi sempre con molta elasticità di gas che è un privilegio enorme comporre un rapporto non lo so devi infelare le scarpe come ti stanno bene se no cammini scono assolutamente da Perugia inizia vetrinaria poi torni a lavorare a Roma ma in realtà leggendo un po' di storie della tua vita c'erano tanti luoghi del cuore ma tu me l'hai letta queste cose si trovano pare si trovino secondo me per esempio ho letto delle cose su wikipedia che sono proprio degli stupiraggi ma wikipedia non l'apro mai mio padre è gran gourmet ma di che era ingegnere palazzinano wikipedia non l'ho aperto se l'avrei detto nato da palazzinano ma dicono dicono delle cose anche non vere una cosa è vera però lo so già dal pre puntata perché la prima cosa che ti ho chiesto è che hai vissuto per un po' nella mia città in realtà sono diversi che Trani in Puglia salutiamo abbiamo un 98% di ascoltatori a Trani tutti presenti ascoltano Gintuaria Podcast ciao Tranesi guardo quella è questa quella è la camera di Trani quella è la camera invece di Barletta sono diversi luoghi però in cui hai vissuto la tua vita a partire da Roma poi dall'Umbria dove sei stanziato per tanto tempo c'è anche la Val Pusteria come coesistono luoghi così diversi proprio perché sono diversi allora per dire Roma erano i miei albori la mia vita preadolescenziale adolescente e poi la Roma è stata quella che mi ha detto no allora Giorgio tu sei uno ZTL la pensi in una certa maniera ma poi torni a casa e c'è le persone a servizio torni a casa e c'hai 440 mili di guardi di casa hai tutta una serie di privilegi che comunque ti sono arrivati dall'alto non è roba tua e soprattutto Roma mi riportava a quello che era sempre stato le persone che ti hanno vista non nascono non ti aiutano a cambiare io volevo fare la cosiddetta lotta di classe che a quei tempi ti ci si riempivi la bocca ma poi in realtà non lo facevi andare via voleva dire anche riproporsi voleva dire conoscere nuove persone che non sapevano chi eri anche conoscere te stesso conoscere questo è quello perché se tu ti presenti poi dopo alla fine vedi come ti piaci di più anche come ti presenti con i vari circo quando io sono arrivato lì a Perugia per mettere un po' a posto casa perché non c'era l'acqua corrente il bagno era l'edatamaia insomma non era il 2000 a.C nel 75 ma avevamo un tugurio non era la casa ci si ghiacciava il latte sul tavolo della cucina facevi fuori dalla finestra perché il bagno non c'era cioè piano piano mettendo un po' a posto per renderla quanto meno abitabile io sono arrivato a Perugia diciamo università una ventina di giorni un mese dopo e si erano già creati tutta la serie di gruppuscoli di personaggi di ragazzi eccetera quindi io li ho girati un po' tutti per capire poi quali erano quelli che mi piacevano di più e da lì sono andate nuove amicizie nuove situazioni poi sai convivi ti rimetti in discussione che ne so mio padre venne a trovare dopo due anni e mezzo che stavo là perché non è che avevamo litigato però lui ti diceva vuoi fare come ti pare fallo però non pensare sui soldi miei perché se vuoi fare la vita che ti dico io eccolo qua se vuoi andare lì fai quello io abitavo con una ragazza che era l'ultima che forse in quel momento mio padre avrebbe voluto vicino a me avevo subaffittato la camera tra virgolette più carina a una coppia di omosessuali e c'era un tossico legato a una cadena questa è la casa mia lui non battì un ciglio assolutamente affabilissimo con tutti mi dà la bacca a sua spalla questa casa sa di te e se l'ha andato capito cioè voglio dire nessuna condivisione ma massimo rispetto che è un'investitura per la libertà di un figlio beh sì dare sovigliarcamente a 67 anni ti dico che se mi fosse successo qualcosa di veramente molto grave e fossi tornato a casa lui non mi avrebbe percorso la botta in faccia ma io mi sarei dovuto per coronare impossibile e questo non sarebbe accaduto sarei crepato cosa hai fatto per tanti anni perché prima di 20 anni fa probabilmente non so se immaginassi o qualcosa si era insinuato nella tua vita ma non immaginavi certo io 16 anni fa se avessi dovuto immaginare la vita che sto avvenendo adesso non ci avessi scomisso un centesimo io facevo tutt'altro la tua prima vita cosa sei stato come ti presentavi a scena prima ero studente poi ho fatto il verinario poi lavoravo in mezzo alla musica per altri motivi ma in sostanza mi sembrava essere una persona abbastanza sfasciata non so come dirti comunque pronta a fare qualsiasi cosa quando siamo arrivati poi in Umbria perché poi i perché mi sono spostato sono anche abbastanza drammatici io ho fatto anche 10 anni orrendi ma per tutt'altro se di motivi però arrivare poi in Umbria la mia casa che era fuori dal centro perché era un casale in mezzo alla campagna era diventata la casa di punto di riferimento di tutti i ragazzi anche di mezza età non c'erano centri sociali a Montefalto se avete raccolto un ecosistema di persone se vedi la luce accesa la porta aperta fossero anche le due notte io ero disponibile comunque era stata casa tua da bambino in cui eri cresciuto sì lì però c'erano delle altre cose perché c'erano delle regole anche formali in casa tua queste regole formali non c'erano uno sfascio disastro però ci si divertiva molto e poi soprattutto la convivialità intesa come quel momento in cui si stava tutti insieme a cucinare in 7, 8, 10 perché il giorno dopo ne arrivavano 300 a pranzo ed era divertentissimo preparare insieme e poi aspettare tutti i tuoi amici che gustavano tutte queste buonissime cose che io facevo io non pensavo di aprire un ristorante non ci pensavo per niente in uno di questi festini uno degli ultimi 16 anni fa quindi diciamo per i miei 50 anni festino proprio in mezzo al bosco con la mia tata che era tornata dalla Val Pusteria ma aveva fatto l'apfelstrudel il kiltstrudel perché ci aveva messo anche quello con le ciliegie insomma aveva fatto tutta la serie e poi avevamo cucinato porchi dentro al forno lasagne come se piovesse cioè c'era un un continuo di cibo che partiva dal forno e arrivava in mezzo al bosco col pick up che mandava avanti indietro con ste teglie e ste cose così e ci si divertiva molto in questo gran casino la cosa che mi a un certo punto due ragazzotti che si erano imbucati perché erano mai visti ah ma ti piace cucinare vieni a vedere noi perdiamo tutto eccetera avevano un ristorante già da prima lui aveva un ristorantino che aveva praticamente non aperto non funzionava nel senso che lui due ragazzi di Milano intellettuali di sinistra in un borghetto mediale dove abitavano sette persone non c'era nessun intellettuale di sinistra il centro più vicino è Foligno che non è neanche New York ma dove di intellettuali si sta forse ce ne sono quattro ma non è che posso visitare a mangiarsi loro hanno fatto una saletta con tutte proiezioni libri una cosa molto carina non parlavano a nessuno perché non c'era nessuno con cui ma dici guarda quanto è bello qua non ci viene nessuno ma chi lo sa ma poi tu fai piccola ristorazione ci vuoi campare in due pagate 1500 nel mese d'affitto cioè raga cominciamo a stringere un po' le palle fatto questa che si insinuano da te e che ti dicono no mi dicono ma vieni a vedere noi prendiamo tutto prendilo tu ok io arrivo in questo frantuglio riattato nella via di mezzo infatti il mio ristorante si chiama la via di mezzo e c'è questo frantuglio riattato meraviglioso mi si è accesa la lampada del matto ho tolto tutti gli inutili orpelli perché lì era tutta ho messo posti a sedere parliamo sia alla sinistra che a tutto il resto degli umbri intanto venite poi ne parliamo esatto e abbiamo buttato a cacciare nel senso che io non ho mai fatto il fuoco in vita mia in quel senso là mia moglie è nata signora lavare i piatti noi c'era una signora romana bella politiva verace dico Mara te la senti ha visto questa cosa io che cazzo ho andato a mangiare 8 persone 8 per 8 quanto fa 60 pari c'avevo 64 posti inventiamoci qualcosa che sappiamo fare abbiamo fatto un grande antipasto al buffet molto ricco e variegato due primi due secondi due contoni e un trisidolci che c'è oggi che tu devi fare la tua trattativa questo c'è questo te magna la stessa cosa 15 euro bevande esclusse ti parlo di 16 anni fa questo però è rimasto ho cambiato vagamente il prezzo perché sono cambiati immagina che adesso io sto a 36 ho 45 dipendenti perché abbiamo due ristoranti anche con i miei figli ne abbiamo un altro una country house e praticamente attenzione i ragazzi lavorano con me non per me che è diverso volevo fare dei passaggi prima di arrivare al ristorante a com'è cresciuto però diciamo che all'inizio era nato come una proposta semplicemente semplice però è una scelta di un posto che c'è tante peripezze cambiare vita in diversi momenti è la curiosità è quello ma uno si adegua ma c'è stato coraggio o è stata un po' una scelta presa anche con entusiasmo perché sentivi una corrispondenza con la tua natura cioè che quella dinamica del festino che hai fatto per tanto tempo io non sapevo qual era la mia natura io sapevo che quel posto mi aveva stregato e che mi aveva fatto accendere questa lampadina parlando col prevedato delle mura gli ho detto guardate se fra un anno la cosa non va chiudiamo senza penari e senza cose perché io non so veramente a che cosa andiamo incontro e le prime settimane come sono state? allora ti dico il primo giorno intanto erano voluti tutti questi tipi che diciamo bene facciamo passaggi in radio un po' di volantinaggio mettiamo quello mille e quadro duemila all'altro parlo con la prologo locale dico senti facciamo tre giorni di consumidio gratuito mi diamo la gente a mangiare e poi si spargerà la voce il venerdì sera che era la serata dell'apertura praticamente c'erano tutti gli amici miei che non sono pochi però insomma poi siamo portati dall'altra gente eccetera eccetera avevo chiesto alla prologo locale di prestarmi i tavoli e se la mettere fuori grazie a dire era una bella giornata era me da maggio barabà 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 sabato pranzo mi sembrava quasi di aver fatto una stupidaggia che vennero tipo 20 persone sabato sera un vituperio domenica pranzo cioè sono venuto ad andare dal pastificio da vicino a rimediapasta fatta in casa e mettere facevo i catering questi pentoloni da due quintali d'acqua davo una sfissia d'acqua ed allora non si è mai tornati indietro no e ci avevo già due settimane di preutazione tre settimane poi tipo un mese un mese e mezzo due di preutazione sabato domenica da subito questo secondo te è legato anche al fatto che tu avessi sempre condiviso il pasto con le feste con i momenti con altri ero abituato a stare in mezzo alla gente e soprattutto a raccontare alla gente che il cibo era il cibo il cibo è una cosa importantissima ragazzi tu fai un pensiero proprio stupidissimo entri in farmacia oggi che ti salta agli occhi 20 milioni di integratori hai sudato prendi questo sei depresso prendi quell'altro hai fatto la corsetta magna tutto se sta male prendi il farmaco non l'integratore ma anche tutta questa smodatezza nei confronti del cibo le diete quelle la dieta per me è una pausa di flessione fra un pasto e un altro non c'è discussione perché comunque è riduttivo dice ma noi facciamo la chiedetta mediale ma certo che stiamo in Cecenia è come la pace con le guerre ma per carità di via e per amore della madonna mi torna e poi ritorna anche nel tuo modo di approcciare la cucina perché è vero che era una scelta forse anche doverosa per poter avvicinare gente però mantenere un menù fisso a un prezzo fisso accessibile perché è accessibile è tuttora accessibile sai qual è la cosa che io cambio menù tutti i giorni io vado a fare la spesa quello che compro cucino quindi non è che c'è il menù scritto là per cui devi andare a comprare quelle cose non è che tu puoi scegliere all'interno di una carta perché altrimenti non ce la faresti più con quei prezzi e poi ci vorrebbero 20 persone in cucina i cuochi di partita e quella e quella oggi con tre ragazzi in cucina tu mandi avanti 150 persone il cameriere non deve essere uno col palo in su per la schiena per essere gentili ma ti sembra un ragazzo svelto divertente allegro che comunque vada arriva in cucina e fa i primi per sei i secondi per sette i primi per tre non tre primi diversi cinque primi diversi o sette primi diversi cosa dice i tuoi ragazzi nel trasferire anche la tua anima nel ristorante state insieme a me vediamo come va e stare insieme a te nei loro occhi cosa comporta cosa dà Giorgio tu fai parte di un gioco o ti auto elimini nel senso che il gioco fa parte di un discorso corale ma che comunque loro mi spiego meglio non devi essere autorevole neanche autoritario ci devi essere è un discorso di esempio è un discorso di di trasmettere il modo di fare che a me piace cioè io mi piaccio ma che devo fare mi devo vergognare nel senso che comunque io quando sto in mezzo alla gente la gente è contenta allora se io sono aperto io ci sono abbiamo due ristoranti io apro da uno e finisco dall'altro o apro da quello e finisco da quell'altro io ci sono sempre e per tutti è una parola per tutti i giorni fai l'oste quello che ospita ma che ha anche gli ospiti quindi c'è adesso un gioco fra le parti che deve essere assolutamente interattivo sai quante amici ci nascono perché tu poi metti d'accordo la gente prendi la chitarra la butti a cacciara che ti devo dire crei una situazione conviviale sia un ponte tra persone è il cibo il meglio la conviviale ci ha pensato anche Gesù Cristo ha fatto 12 persone intorno al caula nonostante quello che gli aveva detto miccio 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 è certo rispetto alla vita quotidiana dell'oste mi hai detto oggi è un martedì un lunedì e siamo qui a Milano tu non puoi permetterti di allontanarti il mercoledì si va a fare la spesa il giovedì 6 è vero che oggi sono partito domani c'è un'altra cosa da fare a Milano finita quella cosa parto e torno a casa perché io mercoledì mattina devo andare a fare la spesa la tua giornata da host io mi sveglio molto presto perché poi rispondo a quelli che mi scrivono mi rispondo personalmente non apro le pagine non vado a vedere i meme non vado a vedere quelle cose là perché altrimenti non apro il bocca poi li troveresti anche in qualche meme sai che c'è il fenomeno mediatico rischia che ti dà un valore aggiunto che tu non hai se tu ci dici di venire a te far un uomo quando cambi a me non me ne frega assolutamente niente stai un po' attento alla tua privacy perché oggi è quella che la gente ti vede per quello che vuole lei non per come sei fatto tu quindi a volte devi mettere dei paletti però io faccio le foto stavo adesso al bar lì davanti al corso sono fermati i ragazzetti signore, signore anche questo fatto di essere intergenerazionale interclassista è un po' inquietante io mai avrei immaginato cose di questo genere ti ripeto sedici anni fa non ci ho risposto ho messo un giudizio e oggi tornando alla giornata mi sveglio presto rispondo un po' alle persone poi ho gli animali a casa quindi comincio a pensare agli animali e poi o vado a fare la spesa o vado a bottega imposto la cucina e poi i ragazzi vanno durante il servizio non sono mai stato alla via di mezzo è l'ora che arrivi è l'augurio che mi faccio dopo questa puntata anche perché sono già intrattenuto abbastanza assolutamente sì ne parliamo volentieri quindi non posso non posso scoprire arrivi e c'hai questo antipasto devo dire con 40 cose diverse che vanno dai varie specialità e anche schifezze tipo lingua, testina, trippa lampredotto sangue d'oca quando c'è nervetti poi dopo ci sono le varie zuppe, zuppette e zuppettine ci sono gli affettati ci sono i formaggi ci sono i sottori cioè c'è una carrellata di cose che tu giri ti prendi quello che ti pare quante volte ti pare poi vai a essere tutto e io ti raccomando di due cose se hai un'intolleranza alimentare dimmelo prima perché noi abbiamo la linea periceria c'è un'intollerante di latticini e tutto quanto e poi di mangiare poco pane perché ti fa mappazza con l'acqua e il vino e ti occupa spazi inutili io non faccio porzioni dopo ti arrivano due perimi due secondi due contorni non ti sti dolci ti volto il bassoio ti sembra poco chiedi e ti sarà dato sulla quantità non c'è il limite ma quello che arriva è insindacabile che c'è oggi non te lo dico tanto non c'è trattativa che te lo dico a fare quindi cambia un po' l'impostazione della classica ristorazione mangi una droglia delle carte è un po' uso bettola però è un manifesto è un modo di a casa mia faccio bravo allora io sono vegano è un problema tuo amore mio con tutto il rispetto ma nessuna condivisione noi siamo animali onnivori siamo diventati così intelligenti grazie al fatto che abbiamo scoperto il fuoco abbiamo cominciato a cucinare le cose e ci sarà il chiedere il cervello se vogliamo fare i bonobo e gli cimpanzei facciamo come va pare nessun problema ma da me no questo è importante ed è un privilegio poter comprendere di dover distinguere quello che tu non stai dando una ricetta per tutti stai dicendo a casa mia faccio così che purtroppo è spesso malinteso mia figlia io sono gli animaletti quindi nascono i paperini nascono i cacchini cioè a mano perché poi sono malizzati le mie bestie quindi papà però guarda questo quanto è carino non lo mangiamo ma tu non immagini al forno dopo andare grande con le patate voglio la coscia apposto si è trovato il problema cioè è nelle cose quando hanno fatto e hanno vissuto benissimo perché stanno mezzo a un bosco sono liberi fanno come gli pare quando è ora gli dagli il collo e me le mangio che rapporto hai con gli animali visto che l'hai anche studiato ottimo mi piace fare anche gli incroci le cose mi piace ho dei pappagallini gioco un po' è la mia valbola di quell'oretta al giorno in cui mi stacco dal tutto e ho questa mia corte di piccoli bambini che magari i bambini magari non lo sgozi no? no quello no quello no hai una affezione particolare per qualche animale del tuo? no sono animali per me sempre per quel ragione ma io voglio bene anche i cani ma muore il cane che è stato con te per dieci anni per carità ti dispiace ma è un cane io non riesco a umanizzarli al punto di sostituirli a ma sono scelte private una signora due mesi fa venne al ristorante la camminata mi chiama dice Giorgio abbiamo un problema dico che è successo? vieni a vedere tavolo da sei cinque persone un cane gigantesca a tavola seduto sul tavolo con il zappo sul tavolo e mangiare il piatto io signora gentilmente il cane deve stare giù ma io ho prezionato per sei persone brava signora lei ho prezionato per sei persone non c'è il cane ah ma per me come un figlio dico signora per lei con tutto rispetto insistiamo ma io pago signora non paga niente ha mangiato l'antimasto io l'ho offerto io si porti via il tuo bambino e se ne vada perché non è il posto per lei sempre perché questa è casa mia manteniamo non solo ma non c'è rispetto certo nei confronti di tutti quegli altri che gli fa schifo vedere il cane che mangia l'intera piatto che dopo magari su quel piatto ci sono a mangiare pure loro cioè ci sono dei limiti all'umana decenza non so come dire un equilibrio che è importante mantenere che ci sta sempre io poi non mi arrabbio quindi quelle persone rimangono sempre abbastanza perpressa perché io non faccio i toni forti oggi se guarda in televisione se non ti tiri un piatto se non stai arrabbiato se non fai gare non fai scerno io sto a 33 non mi fiammato hai citato la televisione mi viene in mente quello che poi in qualche modo ha reso alla via di mezzo la tua persona più più accessibile a tutti che è il gambero rosso come inizia la collaborazione? è stata una cosa strana sai come è nata? è nata perché io avevo aperto questo ristorante e la 2007 metto 2007-2008 memoria storica? 6 con l'Italia che ha vinto i mondiali era il primo locale perché poi quello dove ti dicevo che ho aperto questo frantoio molto bello dopo 5 anni questo mi ha triplicato l'affitto e sei andato a Montfalco e sto chiuso a Montefalco a Montefalco ho chiuso per un anno poi abbiamo trovato un'occasione perché mia moglie ha fatto col gal locale i due signori anzianotte che c'erano questo ristorantino per cattolici che abbiamo in monasteri davanti e quindi abbiamo ripreso e sistemato un po' ma la cosa era che in realtà tutta la serie di cose adesso non ti dico nel merito ma essenzialmente la segretaria di produzione di Gambio Rosso oggi direttrice del canale era molto amica della sorella più piccola di mia moglie ok quando era piccola era una bambina abbastanza divertente insomma così oggi è comunque la donna che ha le sue cose e aveva capito perfettamente che io potevo essere adatto per quel tipo di situazioni però io non amavo quel tipo di programmi per cui alla fine sono venuti a casa mia li abbiamo buttati a cacciare io sto in mezzo al bosco ho gli animali ho l'orto a quei tempi e tutto quanto ma gli ho detto ragazzi parliamo di areali parliamo di territori parliamo di prodotti di persone non più di marchi oggi l'industria ha trasformato l'agricoltura in denaro il prodotto non esiste più in Italia c'è bisogna solo andare un po' a cercare io ho cominciato con la cucina di casa con l'orto con gli animali che ho nel mio regale quella di partire da casa tua era lasciata più ovvia beh perché in quel momento il progetto era di fare dieci puntate perché attenzione era l'anno in cui c'è l'HD per cui Sky pagò il gambero rosso per dargli questi macchinari nuovi perché mi piace erano le beta ma queste cose così e cambiava tutto era cambiato il mondo e oggi c'è 4K ma niente a che vedere con l'HD di allora come cambio? insomma loro hanno fatto un programma sperimentale da me pensando che finisse là e io poi ho preteso il non prismo pubblicitario tu non vedi quel rotolo non c'è quella cosa io non ho mai detto di avere un ristorante in trasmissione non ho fatto le marchette mai a nessuno ho sentito che hai rifiutato anche una collaborazione di un'acqua gasata che comunque bevi lo possiamo dire o gasata o no era comunque un'acqua che mi dava 70 mila euro per dire a fine ricetta o quanto è buona quest'acqua mi fatti dirgli tutte le cose la ricorrutte che cucino ma beve da tu l'acqua cioè attenzione se tu prendi i soldi da qualcuno devi fare come ti dice qualcuno io in trasmissione faccio veramente quello che mi pare apro bocca e gli doffiato il regista arrivo col copione io gli ho messo qua ma non hai la sudditanza psicologica questo è il segreto per cui rende durevole non c'hai io la sudditanza io ho aperto i concerti davanti a 300 mili perché ho fatto la tribuna stampa e l'intervista ma me ne frega assai dalla telecamera penso che ci sia qualcosa dietro alla telecamera perché me ne frega dalla telecamera poi tu lavori con te telecamere mi fai il totale i dettagli ciacciera ciacciera assembliamo le scena punto e basta casca casca ciuccio ciuccio finisce finisce eh ma cioè tutti i miei colleghi o hanno il gobbo o hanno l'auricolare perché ci sono questi autori per fargli dire questi trionfi di ovvietà che vanno dicendo ma non ti si impappi senti dimmi un po' modula mela e stizzisci modula mela e stizzisci insomma va bene modula mela e stizzisci stizzisci bravo ci stiamo lavorando è una mezz'ora con Giorgione dopo l'ora ce la facciamo però voglio dire dice ma sei dico senti se io voglio parlare l'italiano forbito e corretto sono in grado se vuoi il barione del rettale ce lo metto ma non è questo il problema è stata tutta una sintesi hai dovuto semplicemente essere te stesso non hai dovuto non se ci sono compromessi con la televisione in nessun modo se io sono un personaggio lo sono comunque non è che la televisione ha portato qualcosa di diverso da me io non dirò meglio cerco di raccontare storie cerco di raccontare situazioni di parlare di quella cosa di quell'altra e soprattutto di far capire quanto cucinare è una cosa normale è quella che ci avvicina che trasforma la materia prima in cibo e quindi che c'è di più semplice che non una cosa di questo genere allora tutto quel resto di programmi dove la cucina è spettacolo per quanto esista e va bene così perché c'è qualcuno che lo vede evidentemente ma non mi riguarda culturalmente hanno rovinato generazioni di studenti di studi alberghieri oggi non c'è più un cuoco di percorso sono tutti i chef con tutto il rispetto per i grandi chef cioè io pure posso andare in un posto dove non vai a mangiare vai a provare un'esperienza vai a assaggiare le cose un piatto ben sistemato ho un ragazzo che ha preso adesso una stella vislena in Umbria è cresciuto in tua casa lo vedevi che lui aveva un'altra marcia quando mi veniva a dare la mano in cucina a me mi guardava va bene però si può fare meglio è come se fossero due sport diversi sono due cose completamente diverse io ti do da mangiare quello che dico io figuriamoci non è una proposta ricca e variegata è quello uno due tre e punta e basta cosa fai quando ti dicono chef o ste correggi subito ma io cucino non ceffeggio sono due cose diverse io non impiatto non sono attento al dettaglio non mi invento niente di che sa che io vado sul deja vu delle mie tate di quando ero più giovane la mia passione è sempre stata nella cucina io volevo fare il veterinario e quello ho fatto però comunque in saccoccia c'era sempre la cucina io ho questa tata di Rolese che faceva delle cose incredibili prendeva questo impasto dell'appelstrudel con dentro la farina di segale quindi anche un po' più compatto lei mica prendeva il mattarello ti faceva polsia vambracci ti faceva questo metro quadro di sfoglia che se prendeva il calipo era tutto uguale cosa ti piace di più della cucina tirolese? tutto canaderli quali? ah posso dirti al fegato al fegato non mi assaggiate dovrei li fanno anche col sangue a volte col sangue fanno le tagliatelle al sangue che sono molto buone diciamo che la mia tata era molto autarchica che oggi andrebbe in galera questa pensioncina dove macellava dietro di lei le cose io mi svegliavo la mattina con il rumore della zancola cioè di quella che fa il burro tatatatata poi c'era questi panetti di burro giallo intenso perché mangiavano il pasco e c'era ragazzi questo burro era una roba a tutto lo sparo noi avevano il laccio mentre io queste marmellate facevano io poi amavo alla follia le marmellate di fragole del bosco che era non era una fragola certo un'altra cosa e lei sapeva che mi piacevano per cui me le faceva proprio perché l'impazzimento tu immagina raccogliere un chilo di fragoline così che te ci vengono una ricerca ciceli e bagliocchi dei barattoletti eppure c'era questo strano rapporto con questa donna che poi quando morì mia mare c'era lei non era stata la mia tata perché lei è andato via da casa mia nel 56 io sono del 57 però quando c'erano dei pranzi importanti eccetera mio padre mia madre la chiamavano lei partiva e veniva giù da noi a preparare quelle cose perché lei era veramente brava grazie a lei che il cibo si è insinuato nella tua vita non so se è insinuato ma mi ha dato quel discorso della curiosità io stavo magari anche invece di andare a fare lo scemo perché io me ne mettevo lì stavo zitto zitto buono buono vede questa che cucinava poi crescendo lei mi ha coinvolto quindi alla fine sono stato ospite da lei ma nello stesso tempo cucinavo vedevo assorbivo e così come la tata del prosinate come quella siciliana cioè io ce l'ho avuta tante di persone che mi hanno schiaffato nel sangue quel tipo di cucina piuttosto che quell'altro e quando mi dicono ah ma tu la matriciana la fai con la cipolla certo io ho una una cuoca vicino a matrici che la faceva con la cipolla io ce l'ho cresciuto con la cipolla quindi che te dovevi hai preso quella ma falla come ti pare basta che la mangi ma c'è il dicta che pure in cucina ma che ansia la prestazione hai ragione hai ragione li scrivi ancora li scrivi tu i programmi li scrivi non li scrivi li vivi però li pensi tu i programmi allora nasce così sì io in genere nel 90% dei casi decido dove andare e che cosa fare con il regista fatto salvo che ne ho avuto uno molto bravo che poi adesso non c'è più e poi quelli che si sono avvicendati il primo è stato accompagnato verso altri liti perché mi ha detto allora mi devi dire questo che dici ciao è stato un piacere io avrò un po' a fuori fatto salvo quello che ci vogliamo dire che mi sta benissimo che un regista possa se andiamo in quel posto e vede qualche cosa così essendo sicuramente almeno all'inizio più televisivo di me poteva cogliere quelle cose e allora imbastivamo magari dei discorsi ma mai di scritto non c'è mai stato un copione c'è sempre stata la voglia comunque di raccontare quella reale quella persona dei preamboli qualche pennellata di cultura quella cioè buttare qualche cosa che fosse la voglia di idea le persone che guardavano andate là che bello che buono guardate quello ma mangiate anche quest'altro e poi magari oggi in Italia che te ci vuole fare di arrivare la roba a casa io ho girato tutta l'Italia sai quanta roba mi arriva a casa che viene da il chilometro zero è la più grossa stupidaggine che per raccontare chilometro buono non chilometro zero e questo c'è però la ricerca della materia prima quando è buona io c'è un'azienda agricola ho fatto l'elevatore bestiame sicuramente ero curioso sicuramente in terrazza a casa mia a Roma c'avevo l'orto piccoletto ma ce l'avevo io comunque l'idea di quel sapore di quella foglia di insalata che se la accoglie adesso ha un sapore se aspetti due giorni ne ha un altro allora se tu fai una crema di porri e la porti al pubblico se i porri sono stati raccolti la mattina c'ha un sapore se no diventa amara e fa schifo allora devi correggere oggi ci sono i correttori di sabidità di saltatore di sabidità di glutamato non so dico meglio un battuto di lardo molto meglio decisamente ecco e sicuramente insomma a Montefalco ce n'è in abbondanza di battuto di lardo e questo è importante un ottimo motivo per ci sono i guanciali moltissimo da me non so che ci dormi tra due io ci dormo tra due ho sentito dei tuoi in realtà io mi sto immaginando non ti fai gli affari miei tuoi no un vagamente me li sono fatti nelle ultime ore soprattutto però la segretaria di produzione sto pensando a questa segretaria di produzione che conoscevi da ragazzi oggi direttrice oggi direttrice quindi la rispettiamo anzi ci guarderà con grande stima immagino che ti ha guardato in qualche modo ma lei mi conosceva da quando ero in mezzo conoscendoti ha percepito forse ha visto lei nel proprio non era una donna stupida non lo è neanche adesso diciamo che ha fatto sì che quando il regista è venuto a trovarmi fosse già abbastanza preparato nel non dovermi rompere le scatole più di tanto però ha visto degli ingredienti che sono mi ha fatto vedere prima una foto prima di iniziare di te ha 24 anni uguale forse con più capelli ma sempre con la salopet circondato da tante donne questo devo dirlo c'erano anche donne e dei tuoi caldi i tuoi tormentoni i termini che poi hanno farcito non sono sempre parlato così esatto quanti sono originali quanti attingono al tuo bagaglio familiare e quanti invece ti sei inventati perché ti piaceva no guarda io penso di essermi inventato molto poco a casa mia si parlava così il non nulla era la maniera della mia tante che parlava poco un non nulla è un non nulla quindi la dose è per il tossico cioè noi non c'era il problema di dire 50 grammi o 100 grammi perché lei erano anni che cucinava io non ho mai pesato niente non faccio il pasticcere dove è chimica io con gli ulci ho un rapporto abbastanza conflittuale nel senso che si qualche cosa faccio pure ma non mi intrigano non me ne frega niente è tutto pesato scientifico qui due minuti in là lo zucchero che so ti caramelizza poi dopo ritorna lì poi diventa caramelo e che ansia no 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 non è per me cioè secondo te rispetto a quello che hai visto comunque negli anni sono cambiato la cucina è stata sempre più protagonista nell'intrattenimento c'è una distinzione importante l'hai fatta tu tra chi fa programmi di cucina dove il piatto il cibo è protagonista e chi invece fa spettacolo legato alla cucina c'è bulimia però in qualche modo anche saturazione nell'intrattenimento rispetto alla cucina c'è programmi come Master che avranno ragione d'essere tra qualche anno posto che non è il tuo senti non è un argomento su cui posso fare di situazioni filosofiche ti spiego anche perché perché mi è proprio lontano culturalmente cioè il concetto di dire che il cibo può diventare spettacolo e la cucina possa diventare quello strumento per far sì che tu dai dei modelli culturali a delle persone che si occupano di quel campo mi fa venire un po' di ansia a me è cosa che non mi viene quasi mai cioè vedere quanto quella sorta di bullismo quello che ti dà lo scappellotto allora tu lo prendi ma quando sei diventato qualche cosa lo ridai perché questo ti hanno insegnato la nomenclatura di una cucina non è quella che raccontano lì tu ti stai 6-7 ore dentro la cucina che non è una cosa allegra quando mi dicono i ragazzi non c'è non voglio fare niente alta minedì e sabato e domenica si vanno tutti a divertire questi stanno andando a mangiare chi si va a divertire quindi già gli devi dire bravo e poi gli devi pagare cioè non può essere che io mi sento dire da un osteggista quanto ti devo dare per rimanere a fare un osteggio da te e tu vieni a lavorare io ti pagherò ti assumo ci sono tutti i contatti possibili e immaginabili se vanno a scuola ci sono tutte le cose che vengono fatte ma io te pago tu vieni a lavorare non mi sei piaciuto non ci siamo piaciuti ci sono i tempi irregolari per poterti dire guarda è il tempo che tu vada ti accompagni come secondo regista però rispetto tu hai a fare con persone con delle piccole sai quanti 16-17 anni che i genitori finirono per mandare da me a lavorare ma io li pago sono assunti allora tu vedi che non hanno vizi procedurali non sono ancora infarciti da cose strane per cui sono ancora bravi ragazzi sono la sua struttura hanno ancora voglia di portare un piatto sorridere al cliente perché tu gli dici ecco prima di tutto sorridete perché la sensazione della tristezza è subito data dallo sguardo di chi ti porta da mangiare se sei mesto hai portato qualcosa di mesto a tavola e il cliente non si ricorda le cose belle si ricorda quelle brutte e racconta quelle brutte quindi tu devi essere il meno brutto possibile per non dire bellissimo ti diverte ancora tanto moltissimo ogni giorno giorni più giorni meno però ecco sai quella cosa che io tra le 700 e le 1200 presenza per settimana che c'hai di qua e di là di gente ne conosci tanta poi di tutta questa gente capace che in una serata non c'è nessuno che ti ha intrigato in maniera particolare però sei sempre molto cortese e gentile però nascono quelle strane amicizie di quel caso di quell'altro caso di quello sguardo di quell'odore è che oggi con questi aggeggi qui non c'è più c'è la distanza c'è il terzo bus non si parla più anche l'italiano va in ramengo è bello io dico sempre che uno dei momenti più belli della cena è quando si mette il tovagliolo sul tavolo si accavallano le gambe inizia una parte in cui il dialogo è sovrano poi dovrebbe già prima il dialogo è il protagonista si dice ma che ci ha mangiato insieme che ci sei amico perché a tavola siamo tutti un po' più nudacchi lascia stare la tavola immaddita e formale parlo del quotidiano la tavola era quella dove si cucinava immagina la tavola contadina che le donne stanno lì a casa a cucinare e a fare poi arrivano in marito e si mangiava su quel stesso tavolo era sempre un discorso di convivialità anche a quei tempi ed è importante ricordare importante vivere in questo modo poi c'è chi piace altro attenzione oggi c'è uno schermaccio tu a tavola non parli più quanto parli guardi la televisione la mia famiglia sono stato educato no mediamente io parlo di quello che io vedo quando portano un bambino al ristorante gli mettono uno schermo in mano a 5, 4, 5 anni dico ma signorale almeno sta buono brava brava perché se non altro non è il cane che sta ma tu non lo porti alle 11 e mezzanotte un bambino quello devi fare la vita del bambino non ti fai fare la vita dell'adulto certo che non sta buono che sei un prescatore oppure costruisci quello che devi lasciamo stare servono più tate o educazioni diverse questo è perché sei dispettoso nei confronti del bambino se non c'hai i soldi per una data io ai tempi in cui non c'avevo i soldi per una data o uscivo io o usciva mia moglie ma che fa ti porti il bambino dietro fino alle 11 e mezzanotte a sentire discorso e diventano fasci di nervi non li gestisci più il telefono è una delega per non fare parte diventano due automi a me mi ha inquietato l'altro giorno c'è una questione tre anni ne sapeva più di me del telefonino una cosa spaventosa però parlo d'anziano ma credo è trasversale come il pubblico speriamo bene questo sempre nel vivere gli ospiti che sono passati alla via di mezzo hai qualche storia di ospiti siano essi anche magari più noti o meno con cui hai vissuto dei bei pasti sei divertito anche storie di amicizie nate particolari diciamo che di amicizie ne sono date tante di personaggi noti più o meno noti naturalmente ci sono molti di tanti ora siccome tanto l'hanno pubblicato ma io non lo sapevo ma insomma comunque l'hanno fatto mi chiama Andrea Bocelli e dice pronto sono Andrea Bocelli sì vabbè io sono amore da una buona parte va bene no guardi che sono Andrea Bocelli sul te quelle le vorrei venire a passo da lei qui e là insomma è venuto con qualche amici suo persona che a quel che si sente dire io vi assicuro che era una persona affabilissima gentilissima non so come dire anche squisitamente cortese aveva una sorta di ammirazione ai miei confronti e che lui ovviamente non vedente sente e quindi dice noi con degli amici stiamo lì a vedere sentire le sue trasmissioni eccetera io avevo proprio curiosità e quello che lo accompagna che è un suo amico storico mi ha detto Giò io è la prima volta che lo vedo che sta a tavola un'ora un'ora in quarto a chiacchierare e se ne va non regge la botta l'ho portato in cantina per la cantina lui toccando e facendo si fa una memoria locale per cui manco la più a sbattere un'intelligenza diversa beh ovviamente la prestazione artistica è chiaro che è figlia delle letture diverse di sensibilità diverse però ecco tu vedi una persona che è potentissima che ha un sacco di soldi che conosce diciamo tra virgolette i vipi più famosi al mondo però con noi non è stato assolutamente garbatissimo con mio figlio si davano del tumo si è andato in cantina a chiacchierare a fare c'era che ha indugiato che doveva tornare ha detto doveva partire tre e è stato finito ai sei perché comunque l'abbiamo buttata un po' a cacciare anche con lui è stata una cosa così come tanti altri personaggi quando l'ospite si presta a buttarla in cacciare dipende dipende da lui io do il là come si dice ti metto in condizioni di poi se tu azzecchi si crea l'incastro siamo contenti se non azzecchi è stato un piacere parliamo sul formale sciacquo della torna è pronto il secchio c'è una cosa che in realtà mi hai detto prima all'inizio dell'intervista che mi torna molto rispetto ai rapporti con gli altri gli altri ti vedono il valore della privacy del privato gli altri si fanno idea di te è una cosa a cui penso molto è importante però l'idea che tu hai di te stesso nel percepirti io dopo ho scontato che io sono molto molto bello molto alto e molto ben distribuito non so come dirti piacendomi la proposta che tu fai di te è armoniosa beh bella senza modestia cioè ti poni nella maniera migliore che potresti fare perché comunque ti sei autocasato perché comunque vedi che questa cosa che stai facendo ha dei proseliti tra virgolette non in senso negativo ma hai gente che viene da te a cercarti per questo e per quell'altro motivo per come dici le cose c'è 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 il bambino di un anno col moccolo che dice bacia Giorgio bacia tua sorella che tu tornava del naso insomma cioè hai la sensazione che comunque la gente veramente cerca dei miti cerca delle situazioni io cerco di smorzarli questi toni ti prendo in braccio se vuoi fare una foto con me voglio una intimità voglio sentire il tuo odore voglio vedere il tuo sguardo vorrei una fisicità e questo secondo me la gente lo percepisce e qui fisicità vuol dire anche verità perché poi alla fine che menti quanto puzzi o se c'è la radio che stenderebbe in cavallo come dirti la fisicità è una cosa che la puoi modificare ma non si nasconde come previ il tempo per stare da solo lo devi trovare tu come quando lo trovi dove lo trovi diciamo che se non vado in giro dalla domenica pomeriggio al giovedì mi prendo un pomeriggio in cui veramente non voglio fare niente magari ti metti su un divano che è ripresente che a me nella televisione mi fa un effetto di un soporifero omicidiale per cui magari mi voglio vedere un tg faccio anche il che ho da recuperare quindi se sto in condizioni di rilassamento vorrei dirti vorrei trovare una giornata per annoiarmi e mi è impossibile che poi a casa il lunedì se non ci sono ci va mia moglie di andare per la banca sistemare fare eccetera e poi c'è gli animali io so quel punto di riferimento ti nascono quelle cose ti nascono quell'altro devi guardare devi pulire le gabbie quando io sto un po' più di giorni a casa mi posso concentrare su casa vivendo in campagna c'è un giardino che ti porta via tempo devi innaffiare devi portare c'è un orto che è grosso come sto tavolo oggi per dire no però anche quello gli devi togliere il bacio lo devi cominciare io poi strascevo il concetto del biologico non amo i vereni quindi che so faccio il decotto di ortica e spruzzo di ortica per gli afidi le cose così e non uso vereni insomma è un po' nella natura sei solo però sei in mezzo a un bosco ti invita proprio a rispettarla non so come dirlo se no mi torna voglio comporre la tua cena ideale hai una cena con tre puoi scegliere tre commensali tra personaggi noti o meno che strane domande che mi fai però mi divero sono mia curiosità non sto bene per niente va bene allora diciamocelo comporiamo sta cena è una cena la scegli tu hai tre commensali da far sedere in questa tavola ideale e hai tre portate e un vino da scegliere cosa mangiamo e cosa beviamo io ho un testimonio non mi posso annoverare sarebbe un privilegio esagerato e la madonna e la madonna io prenderei sicuramente degli amici cari degli amici che magari non vedi da tanto tempo con cui portarti fuori un po' di déjà vu i ricordi quelli che non devono essere i ricordi della nostalgia ma i ricordi di qualche cosa che eravamo che magari non siamo più ma non è una nostalgia è capire quanto siamo cambiati una tara del tempo e quindi buttarla un po' a cacciare con le varietà delle persone che hai frequentato e visto da mangiare sai quello che a me intriga moltissimo e che ho scoperto proprio a Trani è stato il crudo io prima nonostante noi avessimo una frotta di pescredici vicino a Roma quindi il pesce l'ho sempre mangiato fin da piccolo ma il crudo non era nelle mie corde quando sono arrivato la prima volta arrivai a Trani mi portavano in questo ristorante sul porto mi portavano una granseola grossa così qual era il ristorante? non si dice quella granseola grossa così questo arrivò l'avevo anche guardata sulla tavoletta gli hai dato una martellata sulla cavoccia io me la mangiavo e questa faceva così era un po' inquietante però era tanto buona quindi un primo antipasto di crudo e lo smarchiamo e lo smarchiamo poi saltiamo di pari in frasca io vivo in Umbria arrivai in Umbria nel 95 e assaggiai questi cosiddetti gnocchi al sagrantino lo gnocco al sagrantino il sagrantino per chi non lo sapesse è il vitigno che è scrupolosamente di quella reale lì hanno provato a farlo in Sudafrica in America in California dove è che non ci sono mai riusciti per cui il sagrantino è il Montefalco oggi si chiama Montefalco sagrantino è molto tannico è il più tannico al mondo e ha due versioni passita che era quella originaria e secca io assaggiai questi di tutto sapevano tranne che del sagrantino ci hanno messo il gorgonzolo il radicchio per dargli colore io a quei tempi non ci pensavo niente a far cuoco andai a scazzinare nella cucina di questo posto dove stavo mangiando questa cosa chiedendo alla signora la ricetta di questo gnocco al sagrantino che mi aveva intrigato ma non mi aveva comminto eh no la ricetta è segreta le do due dritte guanciale due parti di sagrantino secco una parte di sagrantino passito io da lì ho cominciato per un anno un anno e mezzo a giocare mettiamoci questo mettiamoci quell'altro insomma adesso si arriva a un punto tale per cui questi gnocchi al sagrantino sono i tuoi non solo sono i miei ma piacciono moltissimo sono ambiti un po' costosi perché non li possiamo fare tutti i giorni però comunque è un bel pianto e quindi come primo a posto così gnocchi al sagrantino e andiamo poi dopo ecco devi decidere se vuoi fare un bipede o un quadrupede sono scelte private io fai una faraona dolce mele perché mi intriga molto oppure un maiale all'agresto l'agresto è questo il collo del maiale fatto come era un prodotto di ciclo umbro le prugne quando non si maturavano le mettero in mezzo alla paglia le snorciolavano le lasciavano a mosciare lì questo fondo con il finocchietto le mandorle eccetera eccetera tu cuoci il pezzo gli dai una fermata lo copri di lardo pennellato come si dice ci metti le prugne le finocchiette eccetera eccetera a parte fai una riduzione di aceto, vino e zucchero ci metti dentro le altre mandorle le altre prugne il fondo di quella cottura frulli tutto a fetti la carne e ci metti questa crema sopra e abbiamo fatto una cena wow la visualizzi questa cena? ma spessissimo perché la faccio quanto spesso pensi a nuovi piatti? ma capita capita anche perché anche i miei collaboratori vengono stimolati a farlo due anni fa uno di questi collaboratori dice Giorgio ho fatto questa cosa vedi un po' pure un po' di cosa hai fatto? melone guanciale assaggiamolo se non altro beh adesso lo facciamo ma dal periodo del melone che è buono e ceccia si fa anche due volte a settimana perché piace moltissimo quindi melone guanciale è nato da uno spunto è nato da uno spunto di un collaboratore hai creato un ecosistema in cui anche gli altri si sentono in dovere o comunque hanno piacere a tirar fuori delle idee io gli dico sempre questo voi create pure modificate e fate lo assaggiamo se è in linea con il nostro pensiero va bene se io però vi dico che non va bene non va bene perché poi la faccia ce la rimetto io e non voglio fare il nazista però se tu porti un pensiero devi essere un pensiero corale allora se siamo tutti nel coro va bene se stai fuori dal coro se mi cominci a fare la lasagna rossa con la besciamella te la magni te e tu nonna io non ce la metto la besciamella dentro non è mia natura a me piace molto senza metterei le polpettine fritte metterei una scamorza metterei una ricotta un bel sugo di spuntatura ma certamente non la besciamella prima di chiudere ho in realtà una curiosità sempre in questa lettura che ho fatto di Giorgio negli ultimi giorni hai preso parte a un film figli con Valerio Mastandea e Paolo Cortelesi scritto da Mattia Torre che è uno dei sceneggiatori italiani beh io l'ho conosciuto ho avuto questa fortuna che com'è stato raccontami praticamente lui mi cercava io non ho glissato molto questo suo tipo di ricerca nei miei confronti per tutte le sue motivi prima perché io non sono un attore secondo perché è un mondo che io conoscevo da ragazzo ma che non non era il mio mondo io ero in classe con la figlia di Ettore Scola per cui durante l'adolescenza ti ho conosciuto tutti i grandi cinema anche di livello Sergio Leone io ho avuto anche che stai a pranzo da lei e c'era quello quello e quell'altro se potessi Mastroianni facevo essere Alberto Surti però tu eri ragazzino vedevi queste cose era questo mondo un po' vattato un po' di celluloide non so come dirti detto anche in termini strani ma non mi aveva mai intrigato mi piaceva vedere i film perché mio padre tra l'altro l'ingegnere aveva costruito il cinema più importante di Roma tra l'altro quello dove c'era il cinema ma quello fatto con tre telecamere che era anche a livello tecnico un po' complesso per cui avevamo la testa vitalizia capace che io abitavo al centro avevo tre cinema vicini capace che io entravo alle tre e mezza e l'ultimo lo andavo a vedere alle dieci e vedevo tre film in un giorno perché comunque c'era questa passione Tiberi che è il suo attore preferito che era lo stegista di Boris ha la casa vicino alla country house che abbiamo noi e i miei figli sono diventati amici spesso a cena con la moglie e i figli è seppia nella serie è seppia? no Tiberi e seppia Alessandro bello e seppia si è seppia nella serie lo sto dicendo benissimo dice Gio lui ti vuole parlare non sta bene vado a trovare guarda non sono un numero privato io lo chiamo lui contentissimo vado alla ventina dove lui abitava una moglie bellissima quarantene con due figli piccoli entro dentro questo boraccio stava malissimo pleb attaccato con tutti i colori c'è tumore al pancreas aspettative di vita un anno c'era già 4 anni che campava sembrava un island insomma in questo lui dice Giorgio io ti vedo da 10 anni non vi conoscevate? no ti vedo da 10 anni abbiamo solo un gruppo che proprio ci vediamo il venerdì sera vogliamo vedere te e io ti vedo tu vai a getto si vede benissimo che non lavori sul copione leggi di questa sceneggiatura poi parliamo dico di che? ti leggi questa sceneggiatura mi dà questa sceneggiatura che è un romanzo cioè lui sapeva di morire quindi rispetto al film era molto più duro sull'argomento io torno dico bellissimo allora tu sarai capo che è il padre del protagonista e capo è il nome del farmaco che io sto prendendo per non morire buongiorno vado lì un paio di volte a settimana che ti dici tanto registro faccio io non voglio che tu impari un copione voglio che entri nel pezzo che sei sempre Giorgio che vai là e facciamo così non ti preoccupare io non me preoccupavo ma non avevo ancora capito niente lui lo porta a fare un ciclo di analisi mi chiama la segretaria dice guarda non vieni la settimana prossima che lui va a fare queste e si dice di luglio poi è morto coraccio ora dire che eravamo diventati amici non ti amministravo perché lui mi identificava un po' con una figura paterna però avevamo una grande alchimia perché lui aveva capito perfettamente che io non ero in grado di fare quello che avrebbe voluto un qualsiasi regista che lo seguisse petissimamente l'altra era che comunque io non c'ho nessuna anziana prestazione perché sono perfettamente conscio del fatto che l'attore non lo so fare e rispetto invece all'ultimo atto di un artista alla morte altrui come ti sei posto all'essere identificato scelto per un progetto ultimo sai la cosa si è sviluppata così la Wild Side che è del figlio di Mieri che è un famoso squalo di questi produttori però lui era molto legato a Mattia lui è stato quello che mi ha insegnato il cinema che mi ha fatto amare il cinema quindi io non credo che ci prenderò una lina c'ho un cast che è stellare la truppa che è il massimo del massimo non so però io glielo devo perché questo è il suo testamento Giorgio Giorgio nebranchisi non lo ha di capo e lei lo deve fa punto la capocasting capisce immediatamente che io non sono in grado di fare quello che vorrebbero che facessi perché il regista nuovo che ha il suo aiuto regista dice Gio tu capisci che se il film viene fuori una merda è una colpa mia ci abbiamo una sceneggiatura e ha vinto il Davide la sceneggiatura originale e se il film viene fuori una merda è la colpa mia in parte di sto cazzo dei copioli che non pesca ci ho provato ma non non ti è piaciuto no non è che non mi è piaciuto l'ho fatto diventammati io ho conosciuto quelli del montaggio alla prima e l'ho abbracciato come avete fatto passare pure solidarietà per uno bravo dice Gio ci hai fatto diventammati ma se in ciavamo niente da montare non montavamo niente cioè io ho portato me là con tutte le ansie le prestazioni lo ripresti? no non rifare altri film non rifarei cioè è stato Mattia che mi ha portato a fare questa cosa io non l'avrei fatto altrimenti l'ho fatto per lui perché comunque nella mia memoria c'è anche questa personaggio che aveva questa persona che aveva creduto in me non come personaggio come un'altra persona e si è creato un gioco tra persone che nei film non è facile tu lo riesci a capire abbiamo detto prima abbiamo parlato del tuo percepito però riesci a capire perché persone anche impegnate con carriere importanti guardandoti magari affezionati a quello che hai fatto negli anni Bocelli stesso prima cosa vedo lo secondo te in te? ma non me lo domando se cominci a farti questa domanda vuol dire che credi a quel discorso che il fenomeno mediatico ti dirà un valore aggiunto io non voglio entrare in questo clima in cui vai ad altri al di là delle fotografie e della l'interazione ma come si può dire anche questo fatto del falso mito che comunque loro vogliono vederti ti vogliono toccare vogliono darti il bacetto vogliono una firma è un mondo che non mi riguarda ma comunque esiste e tu ne fai parte tu sei anche quello che sei in quel senso grazie a queste persone non ne puoi mancare di rispetto non ne puoi allontare un personaggio che stava con me al gambero stava a Bologna l'ho salutato si avvicina un ragazzetto mi fai una fornita dammi dal cane è sclerato capito cioè tu vedi che la gente poi dopo va oltre allora se tu sai quello che sei non devi vero è che a me è capitato tutto a 50 anni 55 anni andavo a fare vecchi bauosi dai un po' di dignità avevi già uno spacco non sei un ragazzotto che poi finisce sul like o se non condividi non sei frega la sega avevi già una struttura di quello che eri però non rimpiangi però non rimpiangi che quei due signorotti di sinistra si sono imbucati quella sera a quella festa perché senza loro non avresti aperto la stessa erano due ragazzi che comunque stavano perdendo la loro passione e questo mi ha fatto tanto dispiacere perché ci avevano buttato i soldi ci avevano buttato il tempo ci avevano buttato veramente la voglia di fare ma erano veletari non avevano capito il senso delle cose capito io sono sempre stato molto più materialista quindi ho fatto subito i conti ho tolto tutti gli inusini orpelli di 64 quanto li dobbiamo fare punto diamo da mangiare alla gente nella migliore maniera possibile stando attenti alla Maria Prima senza fare frunzo perché non sono capace questo è e questo te bagno amore mio e questo è ancora e questo è ancora i bicchieri sono vuoti quasi vuoti purtroppo abbiamo detto in premessa col brindisi che l'alcol venga sempre il gin tonic in questo caso però noi arrivati a questo punto della puntata abbiamo le domande ubriache sono domande veloci un minuto un tantam chiediti mi sarà dato allora come è stata un po' tutta la puntata devo azionare solo il timer perché andiamo sui tempi dove sta il tempo lo mettiamo qua che sia un patto comune va bene un minuto eh Giorgione mi affido agli ordini domande ubriache con Giorgione un minuto cosa non manca mai nella tua cucina ai guanciare Dalla o Battisti Battisti Barbieri o Cannaverciolo nessuno dei due cosa c'è di più l'aido e corrotto l'anima l'ultimo piatto che mangeresti nel braccio della morte ah un bel fritto di pesce un partito che non hai mai votato tutti gli altri tranne quello che ho sempre votato che è ah no ottimo cosa ti fa più ridere me stesso il pezzo che ti viene meglio la chitarra Battisti quale che sensazione di leggere la follia innocenti evasioni innocenti evasioni esatto cosa non vedremo mai nel tuo ristorante oltre a un cane in piedi no la lasagna con dentro la besciamella la rossa quella bianca aglio o cipolla posso farsi immaginare la risposta tutte e due però separate e mai cucinate insieme carbonara o matriciana tutte e due ma con la cipolla in tutte e due in tutte e due l'ultima volta che pianto per amore non lo ricordo l'amore c'è da tempo quanti caffè bevi al giorno 12 13 anche 15 e sul gong abbiamo l'ultima 12 13 mi sono perso stare ammazza non uso sostanze stupefacenti all'italia servirebbe uno nulla in più di cosa di cultura grazie mille abbiamo un'ultima domanda prima di chiudere non era timer la timer ma l'ultima sul gong si tira fuori anche perché se c'è la cultura per la cultura non c'è vari trani però non c'è sempre tempo partiamo dalla stanza e poi nei miei 24 anni io voglio guardare al futuro di tante cose è un pomeriggio di giugno nel 2029 tra cinque anni dove sei? che stai facendo? e che è successo nel mente? diciamo che se ci sono ancora mi farebbe anche molto piacere esserci anche noi perché per carità vorrei che cambiassi un po' questo tipo di mondo che in questo momento sai noi volevamo cambiarlo questo mondo e abbiamo lasciato delle situazioni che oggi mi fanno un po' rabbrividire al di là della collaborazione politica che ognuno di noi ha oggi si è perso veramente il senso della misura cioè in ogni ruolo si è perso quello che è l'essenza della cosa non ci sono le passioni i ragazzi magari si occupano di una facoltà perché non gli funziona il termosifone non so come dirti impegno politico? impegno politico sai che cosa vuol dire impegno politico? vuol dire tutto vuol dire tutto è politico immagino per l'Umbria per Montefalco si è già politico stendiamo un vero pietoso lo stenderemo ma con i favori del gin tonic ne dobbiamo altri grazie mille è stato un piacere enorme avere un gin tonic con Giorgione assolutamente sì arrivederci ragazzi grazie a voi amici che ci avete seguito questo è un episodio di Gintoria Podcast e ci vediamo nei prossimi nel percorso speriamo meglio o magari alla via di mezzo perché no grazie a voi grazie a voi